Qui con coach Andrea Nicolai dopo una bellissima impresa, una partita che si acceda soprattutto nel terzo parziale grazie al break di Siracov che poi è stato aggiustato anche nell'ultimo parziale da tutto il roster, tenendo conto anche dell'assenza di Bloise, è stata una vittoria da cui c'è da essere soddisfatti. Sicuramente abbiamo giocato con una squadra che è favorita per il campionato, costruita per vincere, aveva qualche assenza ma anche noi avevamo qualche assenza, non solo Bloise perché tendiamo sempre a dimenticare l'assenza di Longobardi che è un giocatore per noi titolare, quindi abbiamo vinto senza due titolari, molto bene, grande cuore dei ragazzi, veramente hanno capito che questa era una partita che era una battaglia perché la qualità migliore di Omegna è la grande difesa e il grande impatto fisico, siamo riusciti a pareggiare questa cosa proprio col cuore, con la voglia e con la compattezza, quindi credo sia un buon viatico per il futuro e soprattutto una grossa iniezione di autostima perché credo che abbiamo dimostrato molte cose stasera. Da cosa può essere dato? Una grande prestazione come quella di stasera rispetto a quella della settimana scorsa con Cecina dove è arrivata anche una sconfitta grossa per il punteggio soprattutto e quindi se può mancare questa senta di continuità può danneggiare magari il proseguo della squadra? Innanzitutto sai, in trasferta adesso come si vede è sempre molto difficile andare a imporre il proprio gioco perché ogni squadra ha un obiettivo veramente grosso che sia la salvezza, che sia play out e play off, quindi non trovi nessuno con la guardia abbassata. Poi io non mi fermo mai ai dati nudi e crudi, per esempio a Cecina noi abbiamo preso un break importante in 6-7 minuti, i restanti 33 minuti siamo stati competitivi e abbiamo fatto una partita buona. Come del resto a San Mignato, per 28 minuti molto bene e poi in trasferta si sa che i break si pagano. Questo l'ho detto ai ragazzi facendoli capire che siamo stati competitivi nonostante le sconfitte. Andiamo avanti con fiducia, abbiamo perso in campi difficili perché abbiamo perso a San Mignato, a Empoli, a Piombino, la stessa Cecina che con Gigeno è una squadra trasformata. Ora il calendario ci vede un pochino più presenti in casa, sappiamo che in casa riusciamo meglio a esprimere le nostre cose e poi vogliamo fare qualche colpo in trasferta a partire da Varese dove ci giochiamo a metà play off perché è chiaro che vincendo a Varese e prendendo il 2-0 a quel punto penso che faremo un grosso passo avanti per il nostro obiettivo. Invece una cosa flash, i nuovi arrivi ormai si stanno inserendo veramente bene, anche stasera comunque sia il già detto Siracov, ma anche Lucarelli e Marengo, anche in situazioni di triple e di spot up hanno portato un grande aiuto alla squadra? Sicuramente, è chiaro che sono ragazzi che abbiamo scelto con oculatezza, conoscendo le doti morali, le doti della voglia di lavorare e di allenarsi. Noi sappiamo che lavoriamo duro, il fatto di lavorare duro porta, come si sa nello sport, il lavoro paga sempre, come si è visto stasera, siamo sicuri di finire in crescendo con tutto il lavoro che abbiamo alle spalle e che questi ragazzi ci possano dare un contributo. È chiaro che sarebbe stato diverso averli all'inizio dell'anno, penso che questa squadra, lavorando in estate, in preparazione, eccetera, poteva veramente essere una squadra importante. Ora, è tutto un po' di fretta, sicuramente qualche vantaggio ce lo prendiamo grazie alle qualità dei singoli, però chiaramente siamo un po' in rincorsa sul programma tecnico e sul programma di costruzione della squadra.